Vorrei chiederti una domanda un po' collegata a questo, sulla Bibbia italiana, è affidabile o no? È una domanda da parte di Virgilio, te la leggo adesso. Virgilio, Dio ti benedico, un abbraccio fratellino. Cari fratelli, vi scrivo in quanto vorrei dei chiarimenti sulle varie versioni delle traduzioni bibliche e se ritenete che il sito laparola.net potrebbe essere ingannevole davvero? Come dice questa persona in un video che ha l'ego, da dove l'ho scovato per caso. Anche fratello Giuseppe, in una delle ultime trasmissioni, ha messo in evidenza che ci sono degli errori di traduzione tra la Luzzi e quella inglese e la nuova Diodati. Sì, ma sono marginali, non è che cambia il contesto. Quando è dato che ci sono errori di traduzione dall'originale greco, aramaico e ebraico... Non cambia la dottrina? Non cambiano le profezie, non cambiano le cose principali. Invece di dire, che so, sedia, dirà un mobile. Ok, ok. Non sono quelle grandi, ok? Sì. Va bene. Ecco. In particolare tu parlavi, Giuseppe, dice Virgilio, fratello Giuseppe notava quando parlava della pestilenza che Gesù aveva profettizzato in una Bibbia non specificato. Secondo voi questa persona, autore del video inviato, ha ragione che ci possono essere delle traduzioni della Bibbia manipolate? Inoltre, voi conoscete il sito laparola.net? Io la utilizzo spesso perché è facile da usare ed è comoda in quanto si possano prendere tutti i riferimenti biblici collegati e inoltre anche con lo stesso termine si possono trovare i diversi versetti. Insomma, è molto comodo anche per evangelizzare. E poi ci manda questo link di un video che io non ho guardato, però la citazione sotto il video di quella persona dice che, questo è dal video, dice Il sito laparola.net presenta Bibbie sbagliate e anticristiane, oltre a mescolare le varie versioni. Il testo originale greco è stato manipolato da una commissione presieduta da falsi cristiani che hanno introdotto idee gnostiche e anticristiane. Quindi Virgilio sta citando questo video dove lui chiede, ma è vero che questa traduzione è manipolata? Dunque, la differenza era la nuova riveduta Luzzi, cominciamo di lì, non parla di pestilenze, però nella nuova Diodati, sto parlando di Matteo 24,7, la nuova Diodati invece sì, dice ci saranno pestilenze, che quindi comprendono anche le malattie, le pandemie attuali, le seringazioni, no? E parlavo di questo, ma non è che cambia il contesto. Sì. Va bene. Quindi ci sono alcune Bibbie più precise di altre? Sì, la nuova Diodati è la mia preferita. Va bene? Non è che si può controllare tutta una Bibbia, cioè non è semplice. Io preferisco la nuova Diodati. La Luzzi sono Diodati anche quelle lì, perché la Bibbia italiana, tutte le Bibbie italiane diciamo sulla linea di Luzzi e Diodati sono tutte basate sulla traduzione di Giovanni Diodati, va bene, che ha fatto la Bibbia Diodati, sulla quella Diodati si sono basate anche le Luzzi. Poi è arrivato, nel secolo scorso, pochi decenni fa, la traduzione, mi parla del 90, l'hanno fatta, la traduzione di la nuova Diodati, che c'è la Diodati e c'è la nuova Diodati. Ed è una Bibbia ottima, me la consiglio a tutti. Attualmente credo che sia la migliore Bibbia. È perfetta? No, non ci viene di lì perfetta qua. Ma tu credi che ci sono alcune Bibbie che sono manipolate, non solo piccoli errori che tu hai menzionato, ma Bibbie che sono manipolate con scopi malvagi per indurre in errore e dare dottrine completamente sbagliate? Tu credi che è vero questo? Quello che io credo è che i traduttori di certe Bibbie erano più unti di altri traduttori. Per esempio la Bibbia del Signore di Giova la sconsiglio a chiunque, perché lì tendono a togliere la divinità di Cristo e lì quello non è un errore, quello era un piano, un programma, hanno scelto un traduttore che credeva poco alla divinità di Gesù. Quindi quella è una Bibbia da evitare, il Signore di Giova. Comunque ho dimostrato anche il testo di Giova durante i diversi alterchi che anche la loro Bibbia mostra che Gesù c'è la divinità. Comunque questa è un'altra storia. E questo è quello che posso dire, che sono traduttori più unti e altri meno unti. Poi che Bibbie tradotte con lo scopo di ingannare il prossimo, adesso magari ci saranno anche, ma non mi vengono in mente al momento, magari ci saranno anche. E il sito laparola.net? Cosa ne pensi di quel sito? Beh, non è quello studiato, non lo conosco bene. È un sito degli evangelici. Infatti, io ce l'ho sul mio computer la parola, ma non mi funziona. Non riesco a usarlo. Tu hai il programma. Anzi, potresti per cortesia aggiustarmela. Sì, ho cercato, però non sono riuscita. No, ma adesso non c'è più la nuova di Odate, adesso c'è la Luzzi. Ah. Capito? Quindi peggio di peggio. Sì, sì, sì. Quindi quando è tempo vieni qua per cortesia, tu che sei intelligente. Sì, quel programma della Bibbia la usiamo anche noi, della parola.net. Quale, la parola? Sì, che loro hanno offerto questo programma che è molto efficace per trovare le parole giuste. E puoi vedere se mi funziona sul computer? Sì. Però la parola, il sito stesso, noi non lo conosciamo. Sappiamo che è fatto da alcuni evangelici, che pensiamo sono evangelici normali. Ma usano la nuova di Odate, no? Sì, usano diverse traduzioni. Ci sono tante. Ma io non c'è niente contro questo sito, il poco che conosco. Hanno cartoni per bambini, hanno fiumi cristiani, hanno musica, hanno anche messaggi di conforto di Gesù. Non li ho studiati neanche io, ma sembrano evangelici normali. Sì, comunque tieni presente che questi cacciatori di eresie, di solito la maggioranza di quelli cacciatori di eresie sono del diavolo, non sono falsi fratelli, non sono fratelli veri. Va bene? E quindi tenete presente questo. È una specie di una moderna inquisizione, fanno la caccia alle streghe, la loro missione è criticare, maledire, sai con quelli col trombone nelle piazze a maledire i cattolici? Sì. Così, no? E cercano di farsi un nome, cercano di farsi grandi, magari anche per soldi, criticando, attaccando, maledicendo tutti. Il trucco è, prendono un falso profeta, che è veramente falso profeta, al di là di ogni dubbio, e lo pompano questo, e tutti sono d'accordo. Però poi nell'acqua sporca gli mettono anche il bambino, come dicono gli inglesi, non buttare il bambino con l'acqua sporca. E quindi per loro è facile, prendono un metro di misura su questo falso profeta, che ce ne sono. E lo usano per misurare tutti gli altri. David Wilkerson, e posso farti un sacco di nomi, di uomini di Dio, che oggi è su internet, e poi invece David Wilkerson è un uomo di Dio, e questi calciatori di eresia dicono, David Wilkerson è del diavolo. No, del diavolo sono loro. Quindi attenzione a questi qua che criticano tutto e tutte. Attenzione, di solito sono del diavolo, di solito sono falsi fratelli, e non credono neanche che sono veri cristiani. Sono un po' come i farisei che presidivano a Gesù, insomma. I farisei credevano in Dio, credevano nella Bibbia. Questi calciatori di eresia credono in Gesù, credono nel Vangelo, però non col cuore, solo con la capocchia, con la mente carnale. Quindi adesso stanno attaccando tutti questi qua, questi calciatori di eretici. E hanno, il primo eretico attaccato è stato Gesù, duemila anni fa, e continuano ancora oggi. Questa è come una denominazione, i calciatori di eretici. I cattolici avevano quelli che cacciavano le streghe. È la stessa categoria. Cioè, sono inquisizioni queste. A volte torturavano, adesso ci torturano su internet. Quindi adesso hanno cominciato ad attaccare la nuova Bibbia di Odati, che secondo loro è una Bibbia manipolata. E cosa assolutamente falsa, perché la nuova di Odati, e lo dicono innumerevoli chiese di oggi, chiese buone, la nuova di Odati è tra le migliori traduzioni in italiano, se non probabilmente la migliore in assoluto. Quindi è logico che il diavolo non gli piace, usa le sue piedine, questi cacciatori di... Sai i bounty killer che nel Far West andavano in giro a ammazzare la gente per incassare la taglia. E questo è un pochettino così. Solo che perseguitano non solo i criminali, perseguitano anche i veri evangelisti, i veri uomini di Dio. Quindi è proprio al contrario di quello che diceva il fratello Antonio nella testimonianza di prima. Questi si credono che loro sono i soli cristiani nel giusto, gli unici che sono nel giusto. Mentre Antonio diceva, ma è quello che lui ha imparato, che gli figli di Dio sono in tutte le denominazioni, perché Dio guarda al cuore. Anche se non sei perfetto dottrinalmente, nessuno lo è. Nessuno è perfetto dottrinalmente. Sulla terra, solo Gesù. Anche se non sei perfetto, è l'amore. L'anima è sempre salvata. Tu non sei l'unico nel giusto. Non è che il paradiso è vuoto, solo tu ne andrai. Ci sono tanti. Ecco, sì, guarda. Noi personalmente usiamo noi Diodati. Usiamo diverse Bibbie, però ci concentriamo su quello. Noi Diodati, no, c'è anche la Gerusalemme, che è la migliore Bibbia cattolica. Non è che la conosco tantissimo, però, insomma, la Bibbia è tradotta bene. Però il problema con le Bibbie cattoliche è che ci hanno messo anche i libri apocrifi dentro la Bibbia, l'hanno gonfiata, no? E usano questi apocrifi come se fosse Bibbia, ma non è. I apocrifi vuol dire che sono libri storici, scritti da storici e messi nella Bibbia, però Dio non parla. Negli apocrifi Dio non dice mai niente. Sono come leggere, non so, le scritte di Martino Lutero, come leggere i scritti di Sant'Antonio, o di Sant'Agostino. Ci sono un sacco di errori. La dottrina del purgatorio viene da un libro apocrifo che si chiama Maccabei, che offrì uno sacrificio per salvare un'anima di un morto. E hanno basato la dottrina del purgatorio su un libro apocrifo che nella Bibbia non ci doveva essere. E hanno rovinato una Bibbia buona come la noi a Gerusalemme. E poi le didascalie, gli scritti sotto, secondo le opinioni di qualunque prete che ci ha messo sulle mani. E' un disastro quella Bibbia lì. Eppure era una traduzione buona. Però comunque noi abbiamo trovato che questa versione di Odati è la traduzione italiana più precisa e più vicina all'originale greco ed ebraico. Perfetta no. Perfetto c'è solo Dio. Quindi non siamo preoccupati di questi caccia eretici in inquisizione moderna che vanno in giro cercando a piccare roghi e a mettere su i figli di Dio a bruciare perché loro hanno fatto questo sbaglio, quello là, eccetera. Cioè trovi sempre cose di sbagliato in tutti e tutti, compreso spesso anche nelle vere chiese e nei veri uomini di Dio. Ce ne sono parecchie di chiese buone in giro per il mondo. Quindi basta dare un'occhiata al loro lavoro di questi caccia eretici. Loro odiano tutti. Attaccano tutti. Però se esaminiamo da quali pulpiti provengono queste bugie, cioè da quei religiosi cosiddetti caccia eretici, si capisce tutto. Questi moderni profeti, guarda Geremia 14, che a me mi hanno ricordato questa scrittura, sono dei profeti moderni, virgolette, che ci ricordano quei profeti che Dio parlava in Geremia 14. Verso 14, guarda. Geremia 14, 14. L'Eterno mi disse. E l'Eterno mi disse. Che profeti profetizzano menzogne? Quei profeti. Quei profeti profetizzano menzogne nel nome mio. Io non li ho mandati. Quindi ci sono profeti che profetizzano e possono fare anche dei miracoli, ma io non li ho mandati. Non ho dato loro alcun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzogniere, divinazioni, vanità, imposture del loro proprio cuore. Geremia 14, 14. Va bene, quindi non è che perché uno profetizza fa anche dei segni. No, non vuol dire che venda Dio. Guarda, Matteo 7, 21, 23. Segni, prodigi, guarigioni, miracoli. No, 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 no. No. Va bene, il dialogo fa le miracole. Poca l'essere 13. Falso profeta fa miracoli. Insomma, chi cerca trova. E chi ama il fango, cosa fa? Lo trova. Questi cercatori di fango, cacciatori di eretici, eretici sono loro comunque. E quando l'inquisizione cercava gli eretici, erano loro gli eretici. Quindi se cerchiamo possiamo trovare errori in tutti e quindi condannarli. Va bene, Gesù si è caricato dei peccati del mondo. Ecco, guarda qui, non si è lavato le mani. Falso profeta, perché Mosè dice. Andiamo a Romani 3, 23 e Romani 7, 4, per favore. Romani 3, 23 Difatti tutti hanno peccato e sono privi dalla gloria di Dio. Romani 3, 23 E Romani 7, 14 Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Romani 7, 14 Lo sta dicendo qua. Che Paolo diceva, sono carnale, venduto schiavo al peccato. E però in Cristo veniva perdonato. Però a volte pensavo a fare cose così che lui odiava. Perché? Perché era nella carne. Va bene. E allora a questo punto tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato. Quindi puoi andare dal migliore, dal più grande predicatore del mondo e troverai del peccato perché tutti hanno peccato. Sì, sì, sì. Quindi questi figli del diavolo, questi cacceretti, di solito sono zizzani, eh. Non fatevi finocchiare. Non sono cristiani. Fanno finta con la croce al collo. Sono falsi cristiani. Non sono cristiani. Sono falsi. Sono veri farisei. E lo vedo perché attaccano uomini di Dio. Attaccano a me, è così che mi interessa. Ma tanto io. Ma attaccano uomini di Dio che sono sicuri che sono di Dio. Va bene? Quindi non è così che Dio opera. Ma attaccano la parola di Dio. E quello è il lavoro di quello, Biglino. Anche i cristiani lo fanno. Biglino è un altro satanista, lì travestito da filosofo, ateo. Quindi è un gioco facile per il diavolo e i suoi cacciatori di streghe trovare il peccato. E c'è che il peccato lo trovi. Potrei scrivere un romanzo, io, dei miei peccati, tutta la mia vita, peccato qui, peccato là, sbagliato qui, sbagliato là. Va bene? Il diavolo lo usa per dire allora anche la sua missione? No, la missione è di guardare i frutti. Paolo dice che sono carnale, venduto schiavo dal peccato. Sta parlando al presente, non al passato. Al presente di quando lui era vivo. Va bene? Infatti tutti hanno peccato. Quindi non è così che Dio opera. Dio non opera come questi cacciatori di streghe, ok? Perché se uno vuole sapere la verità, deve guardare i frutti di queste persone che stanno solo criticando tutti. Galati 2.4, andiamo lì, guarda. Cioè deve guardare i frutti, i frutti di queste persone che criticano. E di solito i più criticoni, il diavolo ama mettere i falsi cristiani nelle chiese. Perché si spacciandosi per fratelli sono dei perfetti Giuda, va bene? Galati 2.4 Galati 2.4 E questo a cagione dei falsi fratelli, introdottisi di soppiato, i quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci in servitù. Galati 2.4 Il servitù, l'inglese dice schiavitù. Quindi hanno uno scopo queste zizzanie che cacciano gli eretici. Se veramente vuoi cacciare gli eretici, questi qui devi guardare se stesso davanti allo specchio. Gli eretici sono lì. Quindi non è difficile scoprire la zizzania. Andiamo a Giovanni 4.20 Cioè scoprire la zizzania e farsi i fratelli, per scoprirli, il termometro della temperatura è, qual è il termometro? È l'amore di Gesù. Primo Giovanni 4.20 Primo Giovanni 4.20 Se uno dice io amo Dio e odia il suo fratello è bugiardo, perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. Primo Giovanni 4.20 Se questi qua amassero le persone che sbagliano, che poi le dicono loro che sbagliano, vi a vedere se sbagliano veramente, dovrebbe andare in privato un email, qualcosa di dire guarda veramente sai quello che dice non è scritturale? Qui ci sono le scritture, perché la Bibbia dice onorate l'anziano con doppio onore. Va bene. Pietro ha rinagato Gesù tre volte, parliamo di quello tutti i giorni. No, questo è il diavolo che opera così. Come lontano all'oriente dal ponente, all'est dall'ovest, così il nord al sud, così io ho allontanato questi peccati da me, dice il Signore. Fostro come lo scarlato, i rossi diventeranno come neve. Il Signore Gesù non va la sera a dormire, non so se dorme, non credo. Voglio sognare i peccati di Angela stasera. Voglio ricordarmi i peccati di Dora. Gesù non fa così. Lui ha dimenticato perché sono perdonati. Grazie Gesù. E questi qui sono del diavolo. Gesù non ha paura a dire quando uno è del diavolo. Giovanni 8, 44 ha detto ai farisei, voi siete figli del diavolo, non di Abramo. Quindi è così la storia. Questo naturalmente non piacerà a questi caccia eretici, che gli eretici sono loro. Non piacerà però, è così la storia. Questi qui che tornino loro padre del diavolo, che portano il fango che hanno raccolto. Il fango vero, quello là veramente era in prigione, quello là veramente rubava macchine, quello là veramente, quel pastore, quell'evangelista veramente si drogava. Ma il diavolo non ti dice che si è pentito. E questi sono i cacciatori di eretici. Quindi andiamo, andiamo, guarda, leggimi, primo Giovanni 3,10, guarda, su questo soggetto. Da questo sono manifestati i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello. Primo Giovanni 3,10. Quindi puoi sapere che il cacciatore di eretici è del diavolo perché lì non va in privato a dire fratello è sbagliato, guarda, non voglio offendere, non voglio farciampare le pecorelle, che così... No, vanno col trombone su internet. Quindi non amano le persone che stanno corregendo. Tu non puoi correggere chi non ami. Io correggo in continuazione le chiese false, l'audicea, ma lo scopo è che vadano a evangelizzare, che si alzassero dalle panche, che andassero a raggiungere le pecorelle. Non è se dicendo andate all'inferno, basta, non c'è speranza. È diverso correggere un fratello qui, nella comunità. Noi ci correggiamo in continuazione. Ma lo scopo non è condannare. Tu hai sbagliato, per te non c'è speranza. È così che ci correggiamo noi. Abbiamo bisogno uno dell'altro qui. È buonanotte, non ci sarebbe più la nostra comunità. Anche quando correggiamo le altre chiese. Correggiamo le chiese con le correzioni che io ho ricevuto, che noi abbiamo ricevuto, cioè alzarsi dalle panche, andare fuori a cercare le pecorelle. Questo non è condanna. Questo è dire vai se non perdi la corona. Lo scopo è che riprendano la corona. Ma questi cacciatori di eretici condannano e basta. E questi qui sono la faccia di Lucifero. Questi qui sono le corna di Satana. Predicatori di solo male, di solo odio, di solo cattiveria. Insomma, Gesù ci ha insegnato ad operare in amore. Non come l'inquisizione che metteva sul rogo solamente perché leggevano la Bibbia, che non erano preti e non potevano leggere. Oggi queste capre ti mettono sui roghi di internet. Se leggi la versione biblica che secondo loro non è corretta, la nuova Diodati, ti mettono sul rogo di internet. L'inquisizione solo distruggeva, mai edificava. Andiamo a Geremia 1, guarda. Perché Dio ci manda a costruire per il Signore. Non solo a criticare, non solo a condannare, a costruire. C'è il momento della critica, e Dio critica nella Bibbia in continuazione, però lo fa per edificare, no? Geremia 1, 10. Attenzione a questa scrittura. Geremia 1, 10. Vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per svellere, per demolire, per abbattere, per distruggere, distruggere, virgola, c'è una virgola lì, per? Per edificare e per piantare. Hai capito? Geremia 1, 10. Questo è mio Dio. Capito? Questi indiavolati, ma io spero che si pentano, per l'amor di Dio. Spero che si pentano. Ma fino a che si pentano, mi dispiace. No, perché quella non è una chiamata, non è un servizio per Dio. La chiamata di Dio è andate in tutto il mondo, come abbiamo letto prima, evangelizzate ogni creatura. Non dice da nessuna parte andate e demolite i vedeli che evangelizzano, distruggeteli. Ma anche nella Bibbia, tutta la Bibbia, Dio non ha mai mandato nessuno a dedicare la vita a cercare eretici. Ma chi se ne frega dagli eretici? Non è un lavoro per te. Fammi cercare le pecore. Infatti Gesù ha detto il contrario. Come ha detto Gesù? Matteo dice, non andate dai samaritani dagli eretici, andate alle pecore perdute. Non andate dalle capre, andate dalle pecore. Quindi dei frutti li riconoscete che questi qua sono tutto fumo in interrosto. Questi qui amano le tenebre, amano il male, amano il marcio. Vanno a cercare quello. Ricordati che tu se cerchi trovi e tu trovi quello che cerchi, capito? Non solo se cerchi trovi, ma troverai quello che stai cercando. Come uno che cerca una fidanzata, prima o poi di solito la trova. Uno che cerca un lavoro, prima o poi pregando la troverà. Uno che cerca una macchina usata, la troverà, la macchina usata. Se questi qua cercano il fango, cosa troveranno? Se cercano il male, signore Gesù aiutaci. Allora, vai da Giovanni 10.10 e vediamo com'è che Gesù chiama questa gente. Giovanni 10.10 Il ladro non viene se non per rubare e ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Giovanni 10.10 Capito? Questi qui sono ladri. Questi qua, è il diavolo, non sono loro che lo sanno, sono pedine. Cioè il diavolo con la scusa di esporre i peccati di un predicatore. Non è che gli interessa il diavolo attaccare il predicatore. Gli interessa inciampare le pecore che lo seguono. Per questo che Gesù sia talmente scociato, Giovanni 8.44, gli ha detto voi siete figli del diavolo, avete capito? Perché c'erano le pecore che ascoltavano. Di solito Gesù non usciva un millimetro dal suo cammino per andare a cercare un fariseo per suonagliere e fargli vedere che lui conosceva la Bibbia meglio. Mai. Però quando i farisei uscivano dalle loro cantine, dalle loro grotte tenebrose per andare da lui e attaccarlo, perché c'erano le pecore intorno, almeno 12 pecore c'erano. Vabbè, 12 discepoli. E loro dicono, no, 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 alta, come io sono del diavolo? Come faccio a essere io che io Gesù del diavolo, quando invece siete voi del diavolo? E questo, ricordati, è sempre il trucco del diavolo. L'America sta accusando gli altri dei propri peccati. L'America sta accusando la Russia che la Russia vuole invadere. No, cara, no, no. Se tu, America, che ha invaso l'Europa e circondato la Russia di missili atomici, e adesso la Russia vuole invadere l'Ucraina, dov'è? Bugiarda. Va bene. I cacciatori di eretici sono uguali. Va bene. E allora, Giovanni 13,35, a memoria. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Se avete amore, gli uni per gli altri. E allora se questi qua, i cacciatori di eretici, gli eresiani, eresiani dovete chiamarli, questi eresiani fossero veramente credenti, che non lo sono, perlomeno non tutti di sicuro, e allora andrebbero in amore, andrebbero a cercare di convertire il povero pastore che rubava le macchine. Era in prigione. Sì, però il pastore gli dirà, guarda che, io mi sono pentito. Ah, scusa, vado subito a dirlo in internet. Ma niente, mai lo faranno. Imbroglioni e bugiardi. Quindi da questo conosceranno, da questo conosceremo quali sono i discepoli, da questo conosceremo qual è la zizzania, quali sono i falsi fratelli, dalla mancanza di amore, dal loro spirito di condanna, verso qui neanche conoscono. E dal fatto che di solito, di solito questi eresiani, eresiani, non hanno frutti duraturi da mostrare. Dove sono i frutti dell'eresiano, il cacciatore di eresia? Dove sono i frutti? Eh, io sono lì a maledire tutti, col trombone nelle piazze. Guardami, per favore, guarda. Quindi non hanno frutti da mostrare. Quei frutti, per esempio una chiesa di anime evangelizzate, anime non edificio, e anche dal fatto che questi falsi credenti fanno perdere la fede alle giovani pecorelle, cosa per la quale mancanza di pentimento dirugidicherà duramente, vai Matteo 18, va bene? Cosa dice Gesù a quelli che fanno inciampare? Quando uno viene qua da te e ti dice, Angela, tu sei una disgraziata perché ho scoperto che anni fa tu... È vero. Non so cosa accidenti facevi a fumare marijuana... Ah, forse uccidevo Cristiani come Saulo di Tarso. Tu eri in una... dove ti abbiamo trovata lì, eri in un club musicale lì, dove c'erano giovani che fumavano marijuana. Eh sì, sì, sì. Non so se tu anche fumai, forse no. No, no, però volevo anche io provarlo. Però bevevi birra, eccetera. E abbiamo scoperto la tua vecchia vita. Avete ragione. Sono io, colpevole. Colpevole. Ed è quella la grandezza di Gesù che mi ha tirato fuori da quel fango e mi ha pulita e sono qui servendolo e lo ringrazio per l'eternità. Quando viene il diavolo e ti dice, tu sei come Davide con Basseba, tu sei, hai ammazzato il marito di Basseba, eccetera, eccetera, eccetera. Tu devi dire, signor diavolo, io sono peggio di così, lei si sbaglia. Guarda, lei sta facendo un errore. Io non sono all'altezza così maestosa di Davide che ha ammazzato uno. Io nello spirito sono peggio. Io mi meritavo l'inferno, signor diavolo. Adesso guarda, quella la porta esce da solo e gli do quattro calcioni per aiutarla. Grazie Gesù. Signor diavolo, signori eresiani, ci siamo? Sì. Ce l'hai Matteo 18? Sì. Ecco, quindi questi qua attaccando te, non è che attaccano te e te, che neanche ti conoscono. Hanno sentito su internet che Angela andava a bere birra, l'ha detto su internet, sì. Sì, va bene, ma hai visto tu? Va bene, nel tuo caso la birra la bevevi su Serga. Sì, sì, l'ho bevevo. Supponiamo che andavi in giro a rubare macchine che non lo facevi. No. Ma chi lo dice? In internet hanno detto che Angela rubava macchine. Eh, l'hai vista te? No, ma internet ti dicono? È così che si fa. Quando se tu vai in un processo e dici, io testimonio che internet ha detto. E il giudice dirà tu, pezzo di marrano, buttatelo fuori dalla finestra, per cosa sia. In un processo un giudice in gamba più o meno direbbe così, no? Quindi dicono questo contro di te, di me, di lui e di lei e di loro, perché in realtà il diavolo attraverso queste piedine sta cercando di far inciampare le pecore che su internet non ti conosco e dicono, ah, nel dubbio, lascia perdere questo. E cosa ha detto a chi fa inciampare le pecore, Gesù? Quelli che fanno inciampare le pecorelle, questi eresiani, cos'ha detto Gesù? Matteo 18 e chiudiamo verso 6. Matteo 18, verso 6. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al colo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Matteo 18, verso 6. Quindi questi eresiani dalla chiesa del diavolo, parentesi, che fanno inciampare le pecorelle, per esempio quelli che seguono me, te, David Wilkinson e tanti altri che non vogliono fare neanche nomi. Stanno accusando altri uomini di Dio. Metto le foto su internet. Avevano una quarantina di foto. Sono tutti eretici secondo loro. Di sicuro ce n'è solo uno, quello che ha postato la foto. Come ti permetti di mettere la foto? E cercano di mettere gli indirizzi. E questo è l'indirizzo dove abitano. Se volete andare là a tirare una bomba, ecco, questo è l'indirizzo. E il diavolo lavora così. Per questo che io sono un po' privato con i miei indirizzi. Capito? Quindi dice, attaccate una macina di mulino, una macina da mulino, una macina da asino, come vuoi chiamarla, al collo, e che si butte. Detto Gesù, non lo dice il frate Giuseppe che si è arrabbiato. Detto Gesù, questi che fanno inciampare le pecorelle, ma che si butte. E' meglio, è meglio, non è la punizione, ma è un po' il bene, dice, è meglio, è la cosa migliore, è più facile, è meno sofferenza che si suicidassero in un pozzo. Quindi dagli indirizzo delle macchine da mulino a questa gente. Quindi, cari miei eretici, pregate, ricevete Gesù, lasciate perdere il Gesù falso che seguite, il Gesù che vi guida a odiare, non è il vero Gesù, state seguendo il Gesù falso. Perché non vi mettete in ginocchio a chiedere, Gesù, se veramente tu non sei un Gesù di odio, se veramente tu non hai detto, andate a tutto il mondo e cercate gli eretici, se veramente, allora mostramolo, Signore. Mostrami e se sbaglio io, correggimi, non voglio andare all'inferno a meditare tutte le cretinate che ho fatto, la vita che ho sprecata. A nome di Gesù Cristo, Gesù ti risponderà e questa è la mia evangelizzazione per voi, eresiani. Va bene? Angela, passo e chiudo. Amen, grazie Signore. Allora, mettiamo un canto su questo stesso soggetto di Marcello Marocchi, i vignaioli omicidi. Un grande re aveva una campagna, il grande re pensò farà una vigna, con una torre proprio in mezzo al campo, con una siepe intorno ed un frantoglio accanto. Il grande re chiamò degli operai e disse a voi, affido la mia vigna e manderò al tempo del raccolto i serbi miei e prenderanno il giusto. Verranno, verranno i serbi del padrone, verranno, sono qua, avranno una lezione. Se non gli diamo niente sarà nostro, il frutto nato al sole dell'agosto, il campo ed il frantoio, il vino generoso, i picchi d'oro e tutto il resto. Il grande re mandò degli altri serbi a reclamare il frutto del suo campo e questa volta mise al loro fianco i più fedeli e quelli d'alto rango. E così fu, essi misero in cammino e quando al campo furono vicino, i vignaioli accorsero gridando, anche per voi sarà lo stesso canto. Son qua, son qua, i serbi del padrone, son qua, son qua, prendiamo anche il pastore. Cacciamoli di fuori dalla vigna, non li abbiamo visti alla vendemmia. Con le mani vuote andate dal padrone ma non ritornate più. Io vi pensò, ci manderò un mio figlio, di lui avranno sicuro un gran rispetto, e gli daranno i frutti del mio campo, e lui l'erede, no, non avranno scampo. Verrà, verrà il figlio del padrone, è qua, è qua, è questa l'occasione. Se noi l'ammazziamo sarà nostro, il frutto nato al sole dell'agosto. Senza più l'erede saremo tutti ricchi e prenderemo anche il suo posto. Il grande re, raffitto nel suo cuore, guardò suo figlio e al posto dell'amore, mise la spada in mano ai suoi soldati, gli tolse il campo e uccise gli omicidi. E si è così, la storia della vita, e si così, così è la nostra vita. Quanti profeti uccisi sugli altari, un figlio crocifisso proprio ieri. La vita è il nostro campo, ognuno dovrà dare poco o tanto. E si è così, così è la nostra vita, e si è così, la storia della vita.